Fai il bravo! Niente feste, ok? Oggi ho fatto una cosa pazzesca. Qualcosa di disgustoso? Una cosa che... non avrei mai pensato di fare. Proprio mai. I tuoi genitori lo hanno saputo? Sì, sono rimasti stupefatti. Mia madre ha pianto. E... per la prima volta in tanto tempo... Ero contento. Che cosa hai fatto?